Un piccolo gesto fatto dai bambini per migliorare il mondo. Con queste parole Pamela Canestro, rappresentante di Lega Ambiente Fano, descrive l'iniziativa Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello internazionale. Il progetto coinvolge 5 istituti fanesi, le primarie Gentile, Corridoni, Raggi e Montessori e la scuola Media Gandiglio. Oltre 300 bambini hanno preso parte all'iniziativa che comprende due fasi, prima le lezioni di educazione ambientale nelle aule scolastiche e poi la raccolta dei rifiuti nei parchi limitrofi. A tale scopo, ASET SPA ha messo a disposizione 200 kit base realizzati da Lega Ambiente, ognuno dei quali contenente guanti, pettorine, cappellini, materiale informativo e copertura assicurativa. Che i bambini possano capire e quello che facciamo gli possa restare anche per non solo un'educazione personale ma anche a livello familiare, quindi che i bambini portino all'interno della famiglia quello che gli abbiamo provato per lo meno ad insegnarli e quindi come si fa per esempio la differenziata, il giusto modo di fare la differenziata. E quest'anno è stata molto più sentita anche perché c'è una rivoluzione verde in corso, quindi sicuramente anche i ragazzi si sono accorti di questa cosa e tutti questi fattori fanno sì che queste azioni vengano molto più sentite, non meno il Covid che sicuramente ci ha frenato molto di più l'anno scorso. Abbiamo puntato molto sui bambini perché appunto loro sono il futuro di questo pianeta, quindi sono loro che porteranno avanti queste buone pratiche. Messo in campo grazie al lavoro di squadra fatto da ASET SPA, dal Circolo Legambiente Fano e IDFIX che ne hanno organizzato e strutturato il programma nella città della Fortuna e dal comune di Fano, il progetto punta a sensibilizzare gli studenti e da liberare dai rifiuti e dall'incuria parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge della città. Ho avuto occasione di partecipare almeno a alcuni di questi eventi che la risposta dei ragazzi è stata veramente importante, di attenzione e anche di un contributo in termini di prospettive perché abbiamo visto che sono molto attenti e hanno un approccio fattivo e collaborativo. Speriamo in loro anche per migliorare quelli che sono dei risultati molto buoni ma che necessitano per il futuro di ulteriore attenzione e di ulteriori miglioramenti. Fuliamo il mondo è sicuramente un'iniziativa che vuole promuovere la cultura del rispetto, oltre che dell'appartenenza proprio dei luoghi in cui viviamo e del benessere. Sono processi di crescita importanti, ognuno di noi preservi l'ambiente, è importante che ognuno di noi pulisca il mondo ogni giorno.